Theo Mammuccari lascia lo studio di Belve, tensione alle stelle, durante l'intervista con Francesca Fagnani. È accaduto ieri negli studi Fabrizio Frizzi di Rai 2. Secondo davidemaggio.it, il conduttore ha abbandonato la registrazione dopo pochi minuti, visibilmente infastidito dalle domande della giornalista. Il Corriere aggiunge che Mammuccari, uno dei protagonisti della puntata del 10 dicembre 2024, si sarebbe mostrato irritato anche per il cambio di tono della Fagnani, che durante l'intervista gli avrebbe dato del lei anziché del tu. Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu? Avrebbe chiesto Mammuccari, prima di alzarsi e lasciare lo studio. L'intervista, durata appena 5 minuti, ha lasciato il pubblico incredulo, molti pensavano si trattasse di una gag. Quando si è capito che era tutto reale, la platea ha applaudito Francesca Fagnani per la gestione dell'imprevisto. Grazie. Grazie. Grazie.